Senti, qual è il tuo primo appuntamento ideale per te? Una cenetta romantica, magari normale. Una cenetta però dove? Cioè, ristorante, a casa? Ma io onestamente sono un po' per le cose più chill, quindi cenetta a casa, magari si cucina insieme. Quindi la dai al primo appuntamento? No. No, sono due cose totalmente differenti. Ok, ok, però no, no, io cercavo... Stavi annotando? Sì, sì, no, io cercavo di... No. E come funziona? Che quando inviti fuori a cena, allora c'è un pochino più di, magari, di insicurezza e cognita, però se inviti e vai subito a casa una persona... Infatti ho detto, dipende se conosci o meno una persona. Cioè, definiresti me un conoscente? Onestamente no. Perfetto. Ok, aspetta, aspetta, un conoscente per metà.